ciao ragazzi siamo qui pallino e giacchina come ieri come ieri come ieri sera tutto bene tutta parte ah mi faccio il bagno mi pulisco il culetto intanto l'acqua diventata marrone ragazzi vabbè bando le ciance ciancio le bande siamo qui con una puntata di forma in modalità creativa andremo su quest'isola qua andremo in questa isola escape from menderbroke parte 2 a parte 1 non la facciamo noi siamo pallini noi siamo pallini noi cominciamo dalle due non dalla 1 vero cecchina cos'è questa isola è un escape un escape room quindi una mappa dove bisogna scappare da qualcuno da qualcosa ci sarà un po di partito da pallina la pallina per questo video quanti lecchi chiediamo per giochina 50 usi pochi sì 50 ci stanno ci stanno per sono di canche di canca riguardi la e quindi 50 like andiamo ok ok and the broker was consumable by darkness can you save the town before it's too late avvia partita sei già morta ma cos'è sta roba pallina non lo so allora siamo nei meandri dell'enderbroke noi qua qua non c'è niente io vado giù di qua ok ok long aspetta aspetta leggiamo un attimo jay keean long ago anche c'è voglia di vedere anche civilizzazione trappi o jay clonera e scienri l'ugo is to buy all four scienri e ingediti hr clonera e ridistrati parto hk all around the town work together work fast and save head before it's too late già collezionare le quattro dune ci devono essere quattro dune qua andiamo in cerca di essere quattro dune quattro dune qua dentro no lune rune ah rune ho capito lune dove sono dai allora questo che è un paese di una cività antica sono in maglia un paio dune non è vero banchi banchi babab io qua ho trovato una roba rossa che pussa cos'è secondo te cos'è secondo te è il limite del mondo no no non è il limite è per superare il livello posso entrare in quella zona qua c'è qualcosa ho trovato qualcosa vedo una scritta su per una torcia e un muro allora io ho trovato Come no? Io l'ho trovato. After notizia, a patchway across the lava, you choose to bruise with Kousha. Ok. Lino go. Porca... Ok. Cominciamo col parkour. Parkour... Parkour... E me bruise il busto dei cul... Mi porconerò, e se come porconerò... Ok. Io tu porconerò, fin domani del mattino porcone onerò. E anche il primo? Sì, lo vediamo sotto a posto. Oh, da... Dai! Nooo, ma dai, mi sei un caccaro! Ok. Ma fin dove cacchio... Eh? No, ragazzi, no. No, no, ma non ci possono essere parkour così... Ci vuole calma e sangue e freddo! Oh yeah! Vai! Vado io? Vado io! Sì, vai! Il pallino! Io non so, io mi domando perché questo doveva mettere le rocce? Perché doveva mettere le rocce? Ok, fin qua ci sono... Qui? Qua ci sono... E qui... Io non riesco a arrivare al terzo, porco cane! Il pallino! Ok! Checkpoint! Il pallino! Guardatemi la luna! No, quello è possibile saltarsi! Dai, pallino, ti guardo da qua! No, no, devi provarci! Non ce la faccio, pallino! Devi farcela! È troppo difficile! Ragazzi! Mi sto cagando! No, no! Senza storia! Senza storia! No! Dai, Gechina, con calma, dai! Piano, con calma! Sì! Grande, Gechina! Ci sono dato il signore! Questa è quella più difficile! Soprattutto... No, pallino! Sei una pirlotta! Sei una pirlotta! Che cagli... Dai! Ok! No! Sesso l'olore che ho fatto io! Ecco, viene fuori l'orangotango che c'è in metro! E mi piace! Sai cosa? Cos'è? Mi dà fastidio! Che... Ad esempio... Steph! Quello che dice... Player... Loro fa saltel... Cioè, le loro ste mappe qua le fanno di continuo saltelando così! Sì! Ma è infatti... Non così! Non così! Questo cavolo di personaggio ha le mani! Può aggrapparsi! All'ascia! No! Lui deve tenere l'ascia! Lui deve tenere l'ascia! Meno se lo... Vuoi... No! 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 Mi sono mistratta con te! No! Io tra un po' comincerò a prendere testate il monitor! Pallino! Perchè anche quelli che le fanno a 360 gradi! Il signore è il mio pastore! Ma è il mio? No! Perchè? Perdo sì! Vai per il mio! Ragazzi! Sì! Ho partorito! Ho partorito la seconda parte del parkour! Prova a cantare il signore è il mio pastore! No! E ti porterà fortuna! No! Dai! Perchè! Sì! Io canto per te in poco e il canto per te! Il signore è il tuo pastore! Però non me la ricordo più la canzoncina! Pallino! Stai scherzando! Il signore! Alzate le mani ragazzi! State guardando il video! Alzate le mani che voi fate! Il signore è il suo... Signore! Siete cancari! Non avete alzato le mani! Non avete alzato le mani! E' quello il problema! Grazie! Adè vai pallino! Vai avanti! Io ho tanto testo! Arriverò! Arriverò! La gecchina arriverò! La gecchina arriverà! Arriverò! È impossibile! È il dottocito! Sì! 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 Ma pallino mi ha lasciato due livelli indietro! Beh no adesso ti aspetta! Uhhh! Come ho fatto? Ma come ho fatto? Ma che cacchia ho fatto? E' affa- Ahah! Ahah! E' affa- Sì! 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 and where are we going now you better you come across another puzzle and begin to search you for a way to solve it was this battle to start the puzzle move quickly to reach the boss before the door chooses closest where is the close closest ok I understood better Zichini afferma questa questa è un enigma vai oh che culo allora if the door lock and press no if the door lock and press this button to reset the puzzle head back to the start and try again schiaccia quello questo no aspetta appena schiaccio questo schiaccia quell'altro vai ecco dove era sbloccato vai ah così after narrowly escaping the puzzle you take a moment si si to take a moment to catch your breath respira dal momento meta avvertire eh you come across a larger way bring the jar in the fire room you move fast and defeat him before he should take you si vabbè ma sono troppo potenti non è che ci siano armi dai sono sbloccate tutte sono sbloccate tutte si si ma qua non c'è niente no perché hai usato la bomba adesso ecco 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 beh tutto io c'era il drago rossola and here we come la runa prima runa ragazzi prima runa va bene che vengo anch'io after the city the way he may you la grove approach the fire room and grab it before and then farvi corri non scorreggiare aria aperta ce l'abbiamo fatta cecchina io approfitterei sai cosa 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 di ditti cosa che io direi parola chiave runa runa parola chiave runa oh yes qui è chiuso è arrivato fammi leggere le scritte io ti dirò cosa c'è da fare allora dobbiamo andare dentro la ravine sì ma io muoio qua allora ci sono ci sono jump devo saltare qua sul bordo e via fico beh questo è facile easy questo è easy ragazzi ok non è più easy e io sono morto sull'easy che ci meritiamo penso che bisogna andare qua no ritorno indietro pallino ok bravo no non guadagli il salto così si adesso puoi andarci insomma non devo saltare direttamente devo andare qua sul bordo e adesso saltare verso l'alzamba ecco e quando è che devo andare forse bisogna fare tutta la gola qua proviamo a vedere si ok è così facile questa runa dopo aver guardato la ravine senti la gloria di fire pulsando ti approcci la runa e hai un'esplosione dietro adietro che dobbiamo prendere la runa e avremmo sentito un'esplosione dietro di noi io ho preso la runa non sarà mica la runa c'è abbiamo fatto quella ah ok la giampa è là sopra abbiamo fatto quella del fuoco che era difficilissima secondo me quella dell'aria è una cagata allora ce la fai sentare là sopra oh no ma se mi sembra una pet kill no Gekina io direi che per questa puntata può bastare dividiamola in due puntate questa mappa che così gli mettiamo un po' di suspense ai ragazzuoli gli mettiamo un po' di suspense no 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 proprio tra il narratore diabolico e un po' di suspense ci sta secondo me quindi ragazzi per questa puntata io direi ok lasciate il bello 50 like 50 like dai potete farcela 50 non so tantissimi dai potete farcela non siate un po' troppi kiff cioè polizzo però la chiave è stata detta ragazzi noi ci vediamo nella prossima puntata con questa mappa ciao ciao ciao